Io al mattino lavoravo, mi svegliavo sempre presto, a volte anche alle 5-6 di mattina, iniziavo a lavorare, lavoravo fino al mezzogiorno, mangiavo, poi andavo al campo. In realtà non lavori in due ore, poi da quando entri, quando esci dal campo probabilmente stai 4-5 ore durante le giornate, diventa un lavoro, poi weekend e non è tanto una questione di tempo, ma una questione di focus mentale, di stress mentale che hai perché quando diventa un lavoro devi performare. Se non performi non è successo nel calcio e se non performi da una parte o dall'altra perché il focus diviso come avevo io e poi performare meno bene rispetto a quello che tutti si aspettano perché ti hanno preso per quello nel calcio alla fine, diventa problematico perché fai le cose fatte a metà.